Ciao a tutti, 10 tipi di persone di cui non devi mai fidarti. Prima di affrontare il tema però, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare e abbonandoti potrai partecipare ad apposite live dove io darò delle risposte precise alle tue domande. E adesso veniamo al tema, 10 tipi di persone di cui non devi fidarti mai, devi stare attenta, malgasciona, soprattutto nelle relazioni sentimentali, soprattutto in amore. Le primi ovviamente, ovviamente sono le persone narcisiste. Numero uno, number one, narcisisti, poi c'è pure di peggio, come si riconoscono i narcisisti? Intanto sono persone che non ti danno amore, che non ne vogliono sapere di te, che sono egoiste, che ti fanno love bombing inizialmente. Quello che ti frega, cara malgascione, è il tuo bisogno d'amore. Questo ti fa love bombing dall'inizio e tu vai in brodo di giuggiole e non capisci più niente, ti innamori e sei fregato. Occhio a chi è eccessivamente, come dire, ti dà qualcosa senza così, senza motivo, ti promette amore. Dal primo momento, attenzione, attenzione perché difficilmente lo fa. Nessun formaggio è gratis, ricordatelo, solo quello della trappola per topi. Quindi fai attenzione a situazioni di questo genere, fai attenzione a chi ti dice Ah, io ti amo, amore, tesoro, salsiccia e pomodoro. Fai attenzione. E a chi ti eleva a vitello d'oro o vacca d'oro, perché è il corrispettivo femminile, e fai molta attenzione a questo. Quindi è probabile che sei una persona narcisista, in più che ti vuole isolare, in più che ti vuole, diciamo, allontanare dai tuoi amici. Devi mantenere sempre le tue amicizie, non cadere nella trappola dell'isolamento, perché altrimenti sei fregata. La seconda tipologia di persone dalle quali tenerti alla larga sono le persone ciniche. Le persone ciniche sono quelle che, di fatto, sono completamente concentrate su se stesse. Non sono narcisiste, ma sono fortemente egoiste. Cioè, conta, come dire, la loro unghia rotta, conta di più della tua testa spaccata. La persona cinica è una persona che tenterà di sfruttarti in qualche modo, e ti accorgi che una persona cinica dà l'estremo egoismo che ha questa persona. Quindi occhio a questa tipologia di persone, perché anche queste, magari potranno anche in qualche modo provare un minimo di coinvolgimento. Ma è un minimo. Cioè, la persona cinica, come dire, ti dà uno e ti prende 20. Capisci qual è il rapporto? Quindi occhio sempre con le persone ciniche. Stai veramente attenta, stai veramente attento, perché, soprattutto attenta, in questo caso facciamo la versione femminile, ma anche maschile, non cambia, non importa, devi stare veramente attenta. Quindi se una persona è egoista, lasciala presente da qualcun altro, lasciala nel suo brodo. E un'altra tipologia di persone, dalle quali, diciamo, bisogna prendere le distanze, la terza tipologia di persone, dalle quali bisogna prendere le distanze, sono le persone depresse, tristi, negative. Questa triade, depressione, tristezza, negatività, sono delle cose da cui devi prendere le distanze. Purtroppo, per carità, ognuno poi vive la vita a modo suo, non è che, come dire, però perché devi andarti a impelagare con una persona depressa, triste, negativa, è veramente... perché ti trascinerà nel suo baratro. Ti trascinerà veramente nel suo baratro, non devi fidarti di queste tipologie di persone, non devi... devi allontanarle fondamentalmente. Altra tipologia, la quarta tipologia di persone che devi scartare, sono le persone gossipare, le persone pettegole, le persone che parlano male degli altri. Questa è un'altra tipologia di persone che devi... di cui non ti devi fidare. Chi parla male degli altri, chi spettegolezza, chi va a raccontare delle cose, beh, devi tenere presente, è una situazione che devi... cioè, parleranno male anche di te, sono persone inaffidabili, sono persone di cui non puoi fare affidamento. E queste devi tenerle presente e devi allontanarle. Quando ti rendi conto che è una persona spettegola, vuol dire che non è la persona giusta, le portinaie e i portinaie non vanno bene. Altra categoria di persone da... di cui non fidarti, da cui da allontanare, sono le persone maniacali, quelle ossessive, ossessionate da qualcosa, che hanno gli stessi pensieri fissi, che hanno le stesse cose da quinta tipologia, che hanno le stesse... sono ossessive. Le persone ossessive hanno qualcosa che non quadra, insomma, tendono ad essere paranoiche, tendono a vedere realtà strane. Insomma, devi cercare di allontanarle il più possibile. Altra tipologia di persone che devi allontanarti, di cui non devi fidarti, sono ovviamente le persone che mentono, le persone bugiarde. La sesta categoria, le persone bugiarde, le persone che raccontano bugie, anche piccole, anche talvolta, questo... devi tenerlo presente. Un'altra categoria di persone che devi lasciar perdere, devi toglierti dai piedi. Altra categoria di persone da eliminare, la settima categoria, sono le persone arroganti. Chi si arroga dei diritti, chi, diciamo, è irrispettoso, chi è arrogante, pensa di essere chissà chi, ebbè, lascialo nel suo brodo, toglitelo dai piedi, perché sono persone che devi eliminare dalla tua vita. Purtroppo, questa è un qualcosa, ma vanno eliminate. L'ottava categoria sono le persone gelose, le persone gelose, possessive, mi spiace, ma non devi né fidarti, perché ti vogliono mettere in gabbia, né relazionartici, né in amore soprattutto, ma neanche in amicizia, perché le persone gelose e possessive sono veramente negative. Altra categoria di persone di cui non devi mai fidarti sono sempre la categoria dei narcisisti, ma i narcisisti covert, quelli che si presentano come bisognosi, quelli che hanno bisogno di tutto, quelli che diventano, tendono a diventare dipendenti. Questa è un'altra categoria di persone che devi lasciare fuori dai piedi, cioè perché non hanno, non ti portano nessun vantaggio, veramente non ti portano nessun vantaggio, mai fidarsi. E la nona categoria di persone delle quali non bisogna fidarsi è quelle che hanno gravi problemi economici o di dipendenza o gravi problematiche legate ad altre situazioni, perché è ovvio che chi ha gravi problemi economici o di dipendenze da qualunque sostanza non puoi fidarti, sono sempre veramente pericolose come tipologia di persone, anche perché tenderanno comunque a sfruttarti, tenderanno a, in qualche modo, a volerti sfruttare, per cui meglio non andarsi a invischiare in situazioni negative. E la decima categoria sono le persone, diciamo, rigide nel pensiero, che non hanno, che hanno una rigidità di pensiero, che non hanno flessibilità, che vogliono sempre avere ragione, che credono di essere sempre dalla parte della ragione, che vedono la realtà in un modo e non riescono a modificarla, le persone poco flessibili, che sono anche quelle prive di umorismo, prive di, diciamo, insomma, le persone sempre troppo rigide, quelle tendono veramente a pesantire qualunque tipo di relazione, meglio togliersene dai piedi. Quindi, queste sono le dieci categorie di persone che devi evitare, da cui devi allontanarti se vuoi essere felice. Bene! Per questo video è tutto, se ti è piaciuto metti un like, iscriviti al mio canale, seguimi sulla pagina Instagram, mi raccomando, pagina Instagram Massimo Terramasco. Adesso mi trovi anche su TikTok, mi raccomando, seguimi anche su TikTok. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, quindi vatti abbonare, abbonarsi è facile, basta andare nella home page, tastina abbonati, che sta vicino a tastina iscriviti, se non lo vedi con l'app del cellulare, vai col computer e ti abboni. Abbonandoti potrai farmi delle domande, alle quali io darò delle risposte, ovviamente, in apposite live, mirate, solo per te, solo per gli abbonati. Bene! Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo, ciao! E ricordati, mi raccomando, te lo ricordo di nuovo, iscriviti a tutti e quattro i miei canali, se ti iscrivi a tutti e quattro i miei canali, entrerai a far parte della più grande community italiana, per quanto riguarda il benessere, la seduzione, la crescita personale, e potrai partecipare ad opportuni gruppi, dove conoscere persone nuove, persone interessanti. Quindi iscriviti a Crescita personale con Massimo Terramasco, Felicità benessere con Massimo Terramasco, Amor autostima con Massimo Terramasco, e naturalmente col canale principale Massimo Terramasco. Ciao a tutti!